Ciao a tutti, buongiorno! Sono Natalia Anguas, l'administratore delegato di EF Italia e oggi sono qua con voi per farvi subito una domanda. Chi di voi non ha mai sognato ad andare all'estero per fare un percorso lavorativo, un percorso di studio o semplicemente per conoscere una città? Allora, con oggi iniziamo quattro video dove vi racconterò come fare per vivere e lavorare all'estero. Siamo nel periodo giusto dell'anno per farlo e vorrei raccontarvi la mia storia personale. Io ho avuto diverse fasi della mia vita in cui non sapevo cosa fare. La prima è stata quando ho finito il liceo che non sapevo che percorso di studio fare. Finalmente mi sono decisa per andare a Parigi perché volevo imparare il francese e cominciare con l'università in Francia. Alla fine ho scelto un'università che era basata a Parigi ma anche a Madrid e l'ho fatto un po' avanti e indietro. Mi sono innamorata di Parigi, volevo andare a vivere dopo l'università ma il problema è che a casa mia i miei genitori non mi lasciavano. Non mi avevano detto che non mi davano soldi per andare a Parigi, che dovevo rimanere a Madrid per lavorare e continuare con il negozio familiare. E io non lo vedevo chiaro. Ero nel più profonda desesperazione, mi sentivo incompleta, mi sentivo legata. È stato un momento difficile ma finalmente ho deciso e sono andata per la mia strada. Avevo bisogno di soldi per poter andare a Parigi e niente, ho trovato un lavoro in una crociera dove ho risparmiato tantissimo per quattro mesi d'estate dopo che ho finito l'università. L'ho fatto e sono andata finalmente a Parigi, convincendo i miei genitori non del fatto che andavo a lavorare, ma del fatto che andavo a fare un master. E quello lì loro erano più ok. Sì, il master vuoi andare a farlo e te lo paghi te, va benissimo. Niente, alla fine sono andata e ho cominciato a lavorare, niente master. È stato un periodo bellissimo della mia vita. Per due anni sono rimasta lì, ma dopo mi è venuta la voglia di andare in America, andare a lavorare in America, cosa che è abbastanza difficile, soprattutto all'epoca che le frontiere erano ancora più chiuse. Ma per fortuna o per ricerca personale, alla fine ho trovato un lavoro, sono andata a lavorare a Boston e di nuovo è stato un periodo unico, unico della mia vita. E' felicissima di questa esperienza. Con questo dirvi che tutti ce la possiamo fare. Sicuramente adesso mi chiederete, ma come posso fare io per fare tutto questo? Bene, io ve lo racconto nel prossimo video. Grazie mille, buona giornata. Grazie mille.